10 mancano 11, io sono numero 40, aspetta non si vede, sono 40, tu sei numero 41, lei è 42 e lei è 36, mancano 11 sono a concerto ragazzi, 11 ore Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? I know, I know We're here to get to the end of the way We're sure, we're sure Better find a point of what you see So how you gonna touch We're even gonna be like Kids are rockin' fast, man Kids are rockin' fast, man People are rockin' fast You wanna put the fire So I can see the best man The best man Fun! Fun! Oh, 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 oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.